Panasonic TX58DX900E Abbiamo la possibilità di proporvi questo TV Panasonic 58 pollici di altissimo livello nuovo, ancora in produzione ed in catalogo a un prezzo strepitoso rispetto al listino di 3.999 euro Ha tutta la tecnologia 4K Pro per immagini di altissima qualità fedeli alle intenzioni del regista Per acquisire le stesse sfumature e gli stessi dettagli del film originale i TV 4K Panasonic combinano processori Studio Master HCX con una gestione del colore nata da tecnologie professionali e con un display dell'ampia gamma cromatica Lo schermo cinema offre una visione cinematografica perfetta Il nuovo ed eccezionale sistema di local dimming a nido d'ape di Panasonic offre i neri più profondi disponibili su un TV a letto Grazie! 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 Grazie!